Torna la festa delle feste a Marina di Ragusa e torna con la processione a mare che ha sempre caratterizzato con grande tributio di gioia da parte dei fedeli le giornate di ferragosto nella frazione rivierasca del capoluogo. La comunità è pronta ad accogliere la rinnovata presenza del suggestivo e tradizionale simulacro. Si comincia da oggi con il solenne novenario che proseguirà sino al 14 agosto. Alle 18 e 45 ci sarà il rosario meditato e la coroncina la Madonna. Alle 19 e 30 la celebrazione eucaristica animata dalla Caritas parrocchiale San Vincenzo de Paoli. Nel corso della giornata saranno raccolti beni alimentari per le famiglie bisognose della parrocchia. Domani alle 8 la celebrazione eucaristica. Alle 18 e 45 il rosario meditato e la coroncina la Madonna. Alle 19 e 30 la celebrazione eucaristica animata dal gruppo ministri straordinari della comunione eucaristica. Oddio che volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria l'ha innalzata la sublime dignità di madre del tuo unico figlio fatto uomo e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile recita il passo della liturgia scelto per l'occasione dal parroco e sacerdote Riccardo Bocchieri fa che inseriti nel mistero di salvezza anche noi possiamo per sua intercessione giungere fino a te nella gloria del cielo. L'illuminazione artistica delle principali vie cittadine sarà curata dalla ditta Arte Luce di Pinelli Raffaele di Modica mentre il corpo bandistico Vito Cutello di Chiara Monte Gulfi eseguirà le marce sinfoniche. Lo spettacolo pirotecnico sarà curato dalla ditta Etna Piro di Privitera Francesco di Nicolosi in provincia di Catania. L'uscita trionfale del simulacro della Madonna invece sarà cura di spazi eventi di Damiano Migliorisi.